Kolarov, prova a prolungare Sordio, fuori di poco, scortunati qui approvato ma niente di fatto, non si darà per vinto Fabio, ci riproverà e l'invio arriva direttamente a lui Aspili Queta, ha fatto buona guardia e trova bene il compagno, si avvicina, ecco il tiro bella parata fischio del direttore di gara, calcio di punizione cercherà sicuramente il cross in mezzo da qui alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni cerca l'uomo là davanti cerca di pescare il compagno col filtrante Kolarov dice no occasione per il contropiede Rashford e passa palla filtrante per Salvio Castaldain il Paris Saint Germain riprende subito il possesso della sfera palla in avanti verso il compagno tocco preciso c'è l'opportunità per il contropiede si fa largo con grande determinazione i due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata l'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare Rashford Salvio la mette in profondità per il compagno riceve il passaggio i due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata passaggio prevedibile ci vuole qualche idea più brillante Castaldain Castaldain gli lega la gioia del gol che parata una bella parata che risponde a una buona conclusione bravo l'estremo difensore sono finiti i primi 45 minuti squadra negli spogliatoi primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più che opinioni ti sei fatta di questi primi 45 minuti? hanno un passivo di due reti ed è preoccupante che il secondo gol sia arrivato subito dopo il primo devono approfittare della pausa per rifiatare e riorganizzarsi il direttore di gara ha dato via la seconda frazione di gioco devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari ma soprattutto per riprendere fiducia loro l'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara se vogliono dare una svolta devono farlo adesso tutto bene fino però all'ultimo passaggio l'intenzione era molto buona l'esecuzione un po' meno un'altra azione in copertura la mette in avanti questo errore potrebbe essergli fatale prova la conclusione prova a velociziare il gioco con la verticalizzazione Maggi allarga il gioco a destra risolve una situazione che poteva diventare insidiosa pallone lungo in verticale ottimo intervento ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario opportunità di ripartire colpi e il portiere dice di no ecco il traversone ottimo disimpegno la spazza via qui deve tirare grande salvataggio da parte dell'estremo difensore direi che il portiere è stato impeccabile è difficile fare meglio di così manca proprio qualità nel palleggio il mister non sarà per niente contento c'è il dai e vai da lì può segnare se ne può colpire la palla filtrante ben piazzata meritava un esito migliore questo è un chiaro esempio di quanto possono essere efficaci le giocate in profondità peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza Rashford riconquista la palla Rashford grande intuizione la sua Salvio non è riuscito a trovare la conclusione su un passaggio interessante non è riuscito a trovare la possibilità che non è riuscito a trovare la possibilità di andare a trovare la possibilità che la possibilità di essere